Siamo sempre a Fidenza, abbiamo raggiunto le serre dell'Istituto Solari, qui con me ci sono i ragazzi, alcuni dei ragazzi che stanno ovviamente, sendo un istituto agrario, lavorando qui nella serra. Allora ragazzi, il mondo dell'agricoltura, noi oggi parliamo di innovazione, di sostenibilità, di erbe aromatiche come opportunità, voi vedete il mondo dell'agricoltura nel vostro futuro professionale oppure avete già delle idee molto precise? Per me sì, lo vedo nel mondo dell'agricoltura perché comunque avendo un'azienda agricola penso di lavorarli da grande. Di proseguire quello che stanno facendo, quello che sta facendo la tua famiglia. Vediamo gli altri, tu che cosa stai piantando? Sono begogne. Begogne, bene, ok, e ti hanno detto esattamente che cosa devi fare? Sì. Bene, quindi c'è tutto da augurarsi che poi dopo crescano con successo, ok, questo è fondamentale. Voi ragazzi, anche voi il futuro nel mondo dell'agricoltura? Sì, penso anch'io perché comunque abbiamo già un'azienda e vorrei continuare comunque con la mia azienda e vorrei portare avanti la tradizione. Azienda di che tipo ti posso chiedere? Producciamo parmigiano raggiano, quindi abbiamo la stalla e i campi. E tu il futuro lo vedi anche tu in agricoltura o in qualche altra attività lavorativa? Anche io per me è bene perché se non ho anche l'azienda, quelle robe lì mi piace l'agricoltura. Ti piace insomma. Bene, e adesso li lasciamo lavorare e noi ritorniamo perché il convegno che abbiamo lasciato sta proseguendo. Le erbe officinali, le aromatiche le abbiamo viste anche nelle serre qui del Solari, ma cerchiamo di capire a che punto siamo e che opportunità si aprono in questa coltivazione particolare che però ha già dei numeri interessanti. E credo anche tanto spazio per crescere. La professoressa Ilaria Marotti dell'Università di Bologna ha proprio fatto, ha tenuto una relazione su questo che era uno dei fili conduttori della giornata di oggi. Allora a che punto siamo e che spazio c'è? Allora il comparto delle erbe officinali, in particolare la coltivazione e la prima trasformazione delle officinali ha di fatto subito un rilancio negli ultimi tempi grazie al recente decreto legge del 2018 che di fatto definisce la coltivazione delle officinali come una vera e propria attività agricola. Quindi l'agricoltore non ha bisogno di autorizzazioni, questo sostituisce di fatto il decreto reggio del 1931 che aveva degli articoli, delle normative piuttosto complicate. Per quanto riguarda la situazione attuale in Italia della coltivazione delle officinali, siamo intorno ai 9.000 ettari, quindi non tantissimi, con circa 3.000 aziende che si occupano di officinali, però bisogna considerare che quello che viene coltivato qui in Italia non è sufficiente a coprire il fabbisogno nazionale in termini di materia prima, quindi di fatto il 70-80% della materia prima proviene da paesi, la importiamo da paesi terzi. Quindi è importante rilanciare, comunque pensare a un aumento delle superfici della coltivazione officinale nel nostro territorio, soprattutto puntando sulla qualità. Quindi è possibile cercare di rilanciare questo settore, è una fonte sicuramente di diversificazione produttiva nelle aziende agricole, quindi può essere benissimo inserito all'interno di ordinamenti culturali classici nelle imprese agricole, e chiaramente però puntando sul valore aggiunto che può fornire la materia prima, il prodotto officinale che va dalle competenze dell'agricoltore che si deve formare e un po' di investimenti soprattutto nella prima trasformazione della materia agricola, proprio per poterle destinare a vari sbocchi commerciali. E comunque le officinali possono essere considerate proprio anche per il recupero di terreni marginali, perché in generale sono delle piante rustiche, non hanno bisogno di particolari input produttivi. Questa giornata organizzata da donne in campo è stata dedicata alle riflessioni su quelle che sono le bieconomie, esperienze innovative, abbiamo visto tanti esempi, dall'erbe officinali all'agricoltura sociale, esperienze innovative che vedono già comunque tante aziende presenti, molte al femminile. Stefano Francia, presidente CIA dell'Emilia Romagna, intanto l'organizzazione, la CIA ci crede in queste esperienze innovative e come affiancate imprenditrici e anche imprenditori che vogliano imboccare questa strada? Io credo che le nostre associazioni di persone siano sempre stimolo di ragionare su nuove tematiche, perché le tematiche trattate nell'iniziativa di oggi sono iniziative molto nuove, cioè si ha poca esperienza direi a livello nazionale, ma abbiamo visto come a livello regionale come sia ci stiamo lavorando assieme alla regione e all'università. È sicuramente un punto di partenza importante che può vedere delle filiere territoriali crescere e creare delle nuove opportunità di impresa. È una tematica che cercheremo di portare avanti anche nelle sedi istituzionali per vedere sempre più di creare quelle opportunità in aree, molto spesso montane e appenniniche, che hanno la necessità di una riscoperta e hanno necessità di altre forme di coltivazione. Questa è comunque la dimostrazione che l'agricoltura non è solamente produttrice di cibo, di derate alimentare, ma è fondamentale per il sociale. Pensiamo per esempio alle esperienze di welfare, quindi davvero l'agricoltura legata a doppio filo con la società. Sì, è importante anche per il sociale. Abbiamo visto l'esperienza di un'azienda che fa pet therapy, ma riesce a dare opportunità a quelle persone che hanno delle diversità. Per me questo è importante ed è strategico. Sono sempre orgoglioso di vedere le nostre imprese che investono, si occupano di queste tematiche e riescono sempre più ad investire per riuscire ad avere un ruolo di un'agricoltura nella società. Lo abbiamo sempre avuto, ma lo abbiamo ancora di più. L'altro aspetto, e lo diceva l'assessore Lory prima, è tutto quel grande contributo che l'agricoltura dà all'ambiente. Noi con l'ambiente ci conviviamo e ci viviamo, siamo i primi a rispettarlo e creare l'opportunità per fare anche agricoltura sociale nei territori è strategico. È un punto di riferimento per tutti noi e per la società intera. E adesso lasciamo Fidenza per andare in Romagna con Gabriella per visitare una mostra molto particolare dedicata alle gabbiette per grilli. Una mostra unica al mondo che ha portato in Romagna appunto queste splendide casette che arrivano dalla Spagna, dal Portogallo, dalla Francia, dal Giappone e dalla Cina. Una mostra che è visitabile ancora per qualche settimana. Vi ricordate quando siamo venuti ad incontrare il Museo Sguria Savarna nella provincia di Ravenna? Una incredibile collezione non solo della memoria contadina ma di tantissimi utensili e oggetti artigianali che scavano anche in tantissime passioni del proprietario. Bene, in quell'occasione abbiamo solo anticipato il fatto che ospita una mostra molto particolare. Sarà in scena ancora per alcune settimane. Si tratta di una mostra di gabbiette per grilli. Allora, alcune le vedete qua appese. Molte altre le trovate all'interno di queste bacheche appoggiate sul grande tavolone. Altre sono sotto vetro in bacheca perché si tratta di una collezione praticamente unica al mondo e di pezzi molto molto pregiati. A raccogliere questa collezione è Roberto Fabri. E sono state raccolte un po' da tutto il mondo, da tutta Europa, a partire dalla Francia per passare al Portogallo e naturalmente all'Estremo Oriente. Estremo Oriente perché? Perché diciamo che patria della gabbietta per grilli è proprio la Cina. Infatti il grillo è un insetto emblematico della cultura cinese. Da molti secoli acquistano grilli anche per farli combattere oppure semplicemente per ascoltare e apprezzare i loro canti molto particolari. In Cina infatti si crede che possedere questo insetto porti fortuna. Poi i grilli simboleggiano la longevità. Sono rinomati per la loro velocità, prudenza e discrezione. Come sono i grilli? Sono bianchi quando nascono ma diventano neri dopo un solo giorno. Sono insetti vegetariani, amano i luoghi caldi e sono appunto messi in gabbiette che hanno un posto dedicato nelle case dove appunto c'è questa cultura che continua. Pensate che alcuni cinesi hanno persino delle scatole speciali fatte per portare questi insetti al caldo nelle loro tasche. Possiamo dire gabbiette portatili per grilli da passeggio o da compagnia. Nelle case le gabbie per grilli possono essere fatte di legno, osso, metallo, terracotta, avorio, rattan. E qui vediamo davvero non solo una campionatura eterogenea vastissima e praticamente completa delle fogge e delle dimensioni ma anche dei materiali con cui venivano e vengono realizzate. Il grillo poi viene introdotto nella sua gabbia attraverso una porticina frontale scorrevole dotata in genere di sbarre e grazie alle sue piccole dimensioni la gabbia offre calore al grillo e lo incoraggia a cantare. E quindi le gabbie per grilli sono notevoli anche per i loro ornamenti e le varie forme in quanto addobbavano proprio la casa, come dicevamo, simbolo di vita eterna, fortuna, longevità e felicità. Un'usanza cinese addirittura è quella di offrire una gabbia e un grillo quando una persona cara si trasferisce in una nuova casa e in un nuovo appartamento. Ma non sono solo parte della cultura cinese perché addirittura questa bacheca racconta le gabbiette per grilli made in Italia, anzi più specificatamente made in Romagna. E vedete che hanno la foggia di casette, la foggia di piccoli contenitori, richiamano degli oggetti particolari, i materiali sono tutti ognuno diverso dall'altro e naturalmente si richiamano anche alle tradizioni del luogo. Tra l'altro la mostra è corredata anche da pannelli che danno ulteriori spiegazioni. Ci racconta ad esempio la festa del grillo a Firenze, una delle manifestazioni più antiche della tradizione popolare fiorentina, celebrata ogni anno in primavera per il giorno dell'ascensione nel parco delle cascine. Che origine abbia non si sa bene. C'è un'ipotesi che dice che questa festa derivi dalle antiche festività pagane che celebravano l'arrivo della primavera e magari il grillo col suo cri-cri può essere considerato anticipatore del risveglio della natura. E tra l'altro si compravano proprio ai bambini dei grillai, piccole, gabbiette colorate di varia forma con dentro un grillo e così il bimbo cominciava ad accudirlo. La cultura dei grilli in Europa è diffusa, anche in questo caso, sempre per tenere i grilli per il canto o come portafortuna. Tra l'altro ci sono delle specie che sono più dotate. C'è il grillo canterino-campestre, il grillo domestico delle case, il grillo bimaculato-nero-provenzale. E poi magari ci mettevano dentro anche le cicale. Questo non si sa. In Italia, come in Toscana, Romagna e in qualche altra regione del nord, le gabbiette erano costruite soprattutto con filo di ferro e legno, non disdegnando però materiali più pregiati, addirittura come il corallo, cosa che avveniva a Napoli. Qui vediamo il nostro discorso di partenza, la cultura dei grilli in Oriente. Vedete tantissime immagini che raccontano questa millenaria tradizione sopravvissuta nell'aspetto positivo, quello dell'ascolto del canto, ahimè anche in quello negativo, cioè quello dei grilli da combattimento. Comunque, raccogliere grilli, tenerli con sé, farne gabbiette, e addirittura, pensate, a origini antichissime, oltre 3.000 anni fa. Allora, se volete conoscere questo variegato mondo dei grilli, delle tradizioni e delle gabbiette per grilli di tutto il mondo, Museo Sguri, Savarna, Ravenna, questo è l'invito.